Buongiorno a tutti da LUC65, oggi 29 giugno 2020 per gli amanti del cinema come me e per gli amanti dei film horror, diciamo categoria fantastico, fantastico horror, un film molto bello che invito a vedere agli appassionati di film horror ispirato al film Universal del 1941 con Long Chaney e quindi parlo ovviamente di lupi mannari, wolfman, werewolf e dir si voglia è un film che ho apprezzato molto anche perché sono un fan dei film della Hammer, dell'Universal, quelli dell'epoca d'oro, questo ovviamente è la versione anni 2000 post 2010, una versione ricca di effetti speciali ma che però ricalca fedelmente il film del 1941 Wolfman si avvale della presenza di Penisio del Toro nella parte di Lord Talbot, Anthony Hopkins famoso per il suo Hannibal Lecter nel silenzio degli innocenti, Emily Blunt famosissima attrice inglese famosa anche per A Quiet Place, col marito Kaczynski, un altro film horror fantascientifico molto bello da vedere è Ugo Wewing, della parte del poliziotto che darà la caccia a Bestia, che molti ricorderanno nel Signore degli Anelli è uno degli Elfi, il re degli Elfi, qui ovviamente sarà il poliziotto che darà la caccia a Wolfman, noi lo chiamiamo l'uomo lupo, lo chiameremo italianamente l'uomo lupo. La vicenda si svolge ovviamente alla fine dell'Ottocento, a Londra Lord Talbot, Penisio del Toro, è un nobile tormentato che vive a Londra e che ha abbandonato la tenuta di famiglia ovviamente di famiglia ricca, è figlio di Anthony Hopkins, che è il padre della casata, che vive nella bugiera all'interno di una magione gigantesca circondata da grandi terreni Cosa dire della vicenda di The Wolfman? Praticamente Lord Talbot viene contattato da la futura sposa del fratello quindi Emily Blunt, la bellissima Emily Blunt, molto adatto ad interpretare questo film anche gotico viene cercato a Londra per trovare il fratello scomparso, il suo futuro sposo, il fratello di Talbot è scomparso quindi lui tornerà in Inghilterra dal padre, nella tenuta del padre, un padre con cui praticamente non parla da anni si vedrà tranquillamente che non andranno d'accordo per svariati motivi, la madre è morta in circostanze misteriose lui amava moltissimo la madre, il padre era un personaggio un po' ambiguo che si circonda anche di misteriosi indiani nella casa come sappiamo gli inglesi sono stati in India l'India è stata una colonia britannica quindi in questo film riemerge anche il tratto colonialista si vedrà questo servitore dei poteri particolari che conosce dei segreti particolari del padre di Talbot il misterioso Hopkins ovviamente Lord Talbot andrà... Lawrence Talbot andrà a cercare il fratello, trovare il fratello si imbatterà in una nottata, in una piena, in un campo zingari assalito da qualcosa di veloce, innaturale, in mezzo a una nebbia lui cercherà di seguirlo dopo che quest'essere avrà seminato il panico alle morte ma nella sua caccia all'interno della voliera in mezzo alla nebbia sarà aggredito non sarà ucciso ma sarà morso sarà morso la bestia sarà uccisa ma lui sarà morso da quest'essere dopo di che ne subirà le conseguenze come gli dirà la zingara la Charlotte Champling che farà la zingara e ripeterà le stesse frasi del fin del 41 quando fiorirà l'aconito, eccetera, eccetera, eccetera tu subirai la trasformazione praticamente gli dice che sarà vittima della stessa maledizione che circondava che aveva ha posseduto l'essere che prima di lui aveva avuto questa maledizione ovviamente lui non crede a queste parole ha trovato il corpo del fratello morto dilaniato c'è un funerale una futura sposa a Foranta di cui lui si innamorerà lei si innamorerà di lui tormentato lui, tormentata lei vivono in casa di questo padre di Lorenz abbastanza distante una casa piena di polvere piena di ragnatele sembra più un museo degli orrori che una casa con foglie secche che entrano appena separa la porta con un alano gigantesco spaventoso che sembra temere il padrone di casa quasi che il padrone di casa ovviamente il padre di Lorenz sia un qualcosa anche lui di solane naturale ovviamente la vicenda si svilupperà che ha la prima luna piena che l'Oltarbot ovviamente ritornerà in Inghilterra in Inghilterra subirà la sua prima trasformazione qui vedremo delle scene fantastiche all'interno della città all'interno di concerti perché ovviamente il padre ha capito che lui ha qualcosa che non va lo farà catturare lo farà catturare dalla polizia non si capisce il motivo per cui lo faccia catturare evidentemente evidentemente sa qualcosa e a conoscenza di qualche segreto lo farà catturare sarà drammatica la prima scena in cui l'Ones si trasforma nell'uomo lupo all'interno della cappella di famiglia non capirà neanche quello che sta succedendo qua ricorderà molto il lupo mannaro americano a Londra di John Landis andrà nella brughiera e farà un sacco di morti dopodichè il padre lo farà arrestare lo farà portare via lo farà portare all'interno di un manicomio dove verrà praticamente torturato finché verrà messo come legato su una sedia e qua ricorderà molto Hannibal Lecter e mentre tutti gli esimi scienziati spiegheranno che lui quali siano i mali che affliggono questo giovane che era stato sottoposto ovviamente a elettroshock a acqua gelata torturato nei giorni precedenti lui inizierà a dire scappate con il morso in bocca perché la luna piena è alta nel cielo e lui ha capito che si sta per trasformare sta per fare una carneficina ovviamente spaccherà tutto spaccherà la sedia ucciderà tutti quanti presenti si vendicherà anche del medico che l'ha torturato gettandola dalla finestra e impalandolo sulla cancellata dopodichè correrà per Londra inseguito dal poliziotto che è stato incaricato di indagare sulle misteriose morte avvenute nella vogliera il seguimento sarà all'interno della città sui tetti all'interno di feste con gruppo seminerà il panico per le strade memorabile la scena con un tram dell'epoca che verrà addirittura fatto cadere quando la bestia enorme vestita ancora con gli abiti semistrappati di Lorenz girerà per Londra finché lui si sveglierà con le mani pieni di sangue normale all'alba sotto un ponte ovviamente scapperà ritornerà ritornerà nella magione di famiglia cercherà di sfuggire al suo destino cercherà di parlare con la donna di cui si è innamorato la donna che a sua volta si è innamorata di lei e che non capirà quello che sta succedendo lui cercherà di spiegarglielo cercherà di stargli lontana gli dice di starmi lontana che ti farò del male tornerà nella magione di famiglia dove incontrerà il padre il patriarca che vive in questa casa misteriosa con l'indiano sempre pronto con le armi ad ogni venenza per fronteggiare chissà che male incombente dall'alano che inizierà a ringhiargli perché forse capisce che lui è qualcosa di più che un semplice uomo il film si svilupperà in un finale drammatico in cui il padre racconterà tutta la storia lui è anche lui un lupo mannaro è in una notte in una piena l'indiano l'indiano che lui è in casa che è detenuto che è tenuto a legarlo e tenerlo imprigionato in una segreta per non farlo uscire a commettere omicidi lui fugge e ucciderà la moglie la moglie probabilmente Lorenz bambino ha intuito qualcosa ma ne ha perso la memoria quindi verrà svelato che in questa casa maledetta c'è un lupo mannaro molto più vecchio di Lorenz il finale il finale sarà drammatico varrà usciso addirittura l'indiano perché il lupo mannaro non risparmia neanche chi conosce ci sarà una lotta selvaggia tra i due lupi padre e figlio un lupo dal pelo molto bianco simbologiare la vecchiaia di un essere rispetto alla gioventù dell'altro lotta che sembra favorire il vecchio che è molto più forte ma che alla fine ha la contesa sarà vinta dal più giovane nel frattempo una magione che starà bruciando per effetto di quella guerra tra i due animati e le due bestie arriverà la sua amata a cavallo perché cerca ha capito che forse deve aiutarlo lui fuggirà l'Oanas fuggirà nella brughiera per cercare di non fargli male lei non seguirà a cavallo finché lo raggiungerà sul bordo di un precipizio e qua lei cercherà di fare breccia col suo amore nel cuore del lupo mannaro il lupo mannaro la guarderà mentre stanno per sopraggiungere i poliziotti il poliziotto Hugo Weaving che lo sta inseguendo da tempo e altri con le armi lui la guarderà con occhio tenero quasi avesse capito nella mente primordiale che lei e il suo amore ma a tutto un tratto farà quello scatto decisivo forse di proposito per farsi sparare dai poliziotti dal poliziotto che lo ferirà a morte ma che sarà a sua volta morso dal lupo mannaro quindi la sua maledizione passerà a questo poliziotto e nel finale del film vedremo che egli stesso guarderà la luna piena tenendosi la ferita con preoccupazione quindi l'amata terra tra le mani la bestia che si ritrasforma in uomo il film finisce la maledizione dell'uomo la maledizione del lupo mannaro continua passando al poliziotto e la leggenda del film del 1941 continua per il piacere di tutti quelli che come me amano i licantropi e un pochettino si sentono alla loro volta i licantropi certo io vorrei che qualche volta il licantropo sopravvivesse invece di soccombere un saluto a tutti dagli U65 The Wolfman Imbalissimo Fin Imbalissimo Fin Imbalissimo Fin